... Adesso parliamo di depilazione. Questa è la vostra pelle abbronzata e questo è un pelo. Se voi usate una normale lametta per tagliare il pelo, lui si ritira e poi rispunta. Invece, voi dovreste provare con le nuove strisce depilatorie. Vieni qua la munizia. Un momento di silenzio. Un momento di silenzio. Noi, non esce più.